Ciao amici, benvenuti sul mio canale. Fan di Burakochivit e Faria Yivsan, sono di nuovo con voi con buone notizie e ottime notizie. Gli attori di successo Burakochivit e Faria Yivsan hanno preso pose felici con la loro famiglia. Le parole di Faria Yivsan specifiche per Burakochivit. Lo adoro in ogni modo. Burakochivit Faria Yivsan ha partecipato alla cerimonia di premiazione organizzata dalla Turchia durante la serata di gala della sera precedente. Faria Yivsan, che ha incontrato i giornalisti durante l'evento, ha parlato di suo marito con parole di elogio. Immagini magnifiche sono arrivate da molti nomi famosi della serata, che si è svolta 11 volte in Turchia ieri sera. Faria Yivsan, che era presente alla serata con il marito Burakochivit, ha incontrato i membri della stampa durante l'evento. Non mi dà affatto fastidio il fatto che Yivsan Burak sia sempre all'estero. Burak organizza tutto il tempo che gli resta per me e i suoi figli. Trovo sempre il tempo per la mia famiglia Ocivit, che è sulla buona strada. Ha accennato al viaggio all'estero che avremmo fatto da soli con Faria e tra due giorni. Faria Yivsan, che aveva problemi alle corde vocali, si è ammalata. I bambini si ammalavano a turno e anch'io avevo la mia parte. C'è una situazione epidemica incredibile, ha detto. Rispondendo alla domanda del giornalista, quale sarebbe la tua reazione a Burakochivit e Takt? Il famoso nome ha detto, Burak ha trovato un'ottima linea per se stesso. Mi piace così. Lo amo in ogni modo. Dopo questa non divulgazione, sui social media è emerso un grande dinamismo ed è emersa l'armonia joy tra i fan di Burakochivit e Faria Yivsan. Fan di Burakochivit e Faria Yivsan. Restate sintonizzati per i nuovi post del duo.